cari amici tanti saluti da Serafino Massoni oggi è lunedì 17 gennaio 2011 eccoci qua sul video l'eresia capitalistica con la quale si conclude la trilogia dedicata alle eresie interne al patriarcato perché prima feci il video tempo fa il video l'eresia sovietica l'eresia sovietica poi ovviamente feci il video l'eresia nazista ed ora eccoci qua all'eresia capitalistica per la verità il merito di questo di questo video lo devo all'amico Marco 71 Lucca hai capito Marco 71 Lucca e perché lui mi ha scritto recentemente ma perché tu Serafino Massoni che hai già fatto i video i video dedicati all'eresia sovietica e alla eresia nazista non ci fai pure un video dedicato all'eresia capitalistica lui l'ha chiamato per la verità io avrei dovuto chiamare questo video l'insostenibilità del capitalismo va bene ma io ho detto ma no concludiamo la trilogia e chiamiamolo l'eresia capitalistica quindi ripeto questo video lo devo e lo dedico all'amico Marco 71 Lucca però oltre a Marco 71 Lucca ci sono state varie spinte in questi ultimi tempi anche per via di quello che sta accadendo alla fiat per via di quello che sta accadendo anche a livello globale cari amici mi hanno spinto gli amici capitalismo dove va il capitalismo bene 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 allora parliamo un po' di questa eresia capitalistica precisiamo che il capitalismo va inteso proprio come una eresia interna al patriarcato diciamo sinteticamente che l'eresia sovietica che poi come eresia viene spazzata via il patriarcato la spazzò via l'eresia sovietica era dovuto al fatto che i sovietici pensarono di poter cancellare la proprietà privata che è diciamo così l'elemento che tiene in piedi il patriarcato non ci sono riusciti non ci sono riusciti per il semplice motivo che hanno abolito la proprietà privata e hanno introdotto la socializzazione dei beni di produzione però i sovietici sono dimenticati di eliminare la cellula che moltiplica il patriarcato che è la famiglia monogamica patriarcale la famiglia con i figli ho fatto tante volte notare che la parola proletario significa semplicemente colui che con un'unica forma di proprietà privata ai propri figli ha dei figli e per cui la proprietà privata dentro l'URSS continuò ad essere alimentata surrettiziamente dalla famiglia monogamica patriarcale perché anche gli operai sovietici avevano la paternità dei loro figli e andate pure a vedere tutti i video il video l'ha intitolato l'eresia sovietica questo recentemente sul mio profilo l'ha fatto notare anche l'amico l'amico che si chiama articolo 21 italia mi pare mi pare che l'ha detto sì sì se la fine o massoni ha fatto notare che l'URSS è e c'è rimasto un pezzo di patriarcato cioè quel pezzo di patriarcato che c'è rimasto dentro l'URSS è una famiglia monogamica patriarcale d'accordo e era rimasto il concetto della proprietà privata perché la prima forma di proprietà privata è quella del padre famiglia che ha la proprietà dei propri figli ho fatto tanti video sul fatto che nel mondo antico il padre di famiglia poteva vendere al mercato poteva vendere la famiglia e i figli soprattutto i figli il patriarcato poi il patriarcato è un grande mostro è un grande mostro che l'ha eliminata l'eresia sovietica tra l'altro lo stesso destino ebbe l'eresia nazista perché i nazisti vogliono andare ancora più in là i nazisti vogliono andare ancora più in là dei sovietici perché se i sovietici e dissero noi eliminiamo eliminiamo la proprietà privata eliminiamo la proprietà privata abbiamo risolto il problema socializziamo i mezzi di comunicazione e abbiamo eliminato i conflitti di classe e saremo tutti felici e contenti infatti si parlava dell'URSS come paradiso in terra il paradiso dei lavoratori e i nazisti invece hanno fatto un passo ulteriore hanno detto i nazisti chi l'ha inventata la proprietà privata e i nazisti hanno inventato gli ebrei cioè i nazisti si erano chiesti ma qual è l'ideologia imperante a questo mondo e avevano risposto per bene e l'ideologia imperante a questo mondo è l'ideologia ebraica e dice noi eliminiamo gli ebrei e abbiamo risolto il problema ma pure qui il patriarcato che si basa sull'ideologia ebraica non è che consente l'eliminazione gli ebrei così come se niente fosse è vero che Hitler si è eliminato una gran parte degli ebrei del continente europeo e poi gli altri ebrei degli altri continenti hanno eliminato Hitler e quindi il patriarcato elimina le eresie che che nascono al proprio interno e che lo vogliono sovvertire e penso che è insovvertibile il patriarcato però vediamo il però e adesso allora arriviamo alla fase conclusiva dell'operazione arriviamo all'eresia capitalistica perché l'eresia capitalistica stranamente benché il capitalismo sia un frutto un frutto maturo maturo del patriarcato sembra essere l'eresia più pericolosa per il patriarcato e voi dite ma come il patriarcato si basa sulla proprietà privata e il capitalismo si basa sulla proprietà privata e come fa il capitalismo ad avere la forza di sovvertire il patriarcato più di quanto abbiano tentato di fare i sovietici e i nazisti com'è possibile e adesso andiamo piano e procediamo con ordine procediamo allora l'ideologia imperante a questo mondo è l'ideologia patriarcale alias l'ideologia ebraica per carità è nulla da dire contro gli ebrei ci mancherebbe altro ci sono dei miei video c'è un mio video intitolato chi sono gli ebrei andato pure a vederlo è il mio video intitolato chi sono gli ebrei e gli ebrei hanno ereditato dagli antichi egizi una certa ideologia l'ideologia di un dio unico poi lo hanno allevato questo dio unico che è il dio Yahweh il dio dei dieci comandamenti e il dio dei dieci comandamenti tra i suoi comandamenti dite ma io me ne frego di Dio non ci credi in Dio vabbè ma l'umanità non mi frega niente se tu caro non ci credi in Dio perché l'umanità ci crede in Dio a stragrande maggioranza l'umanità ci crede in Dio tu mi dici ma tu sei la fino mazzone ci parli di Dio e ti dici come ma Dio non esiste vabbè ma per la maggioranza esiste allora nei dieci comandamenti che Dio di Yahweh diede a Mosè su Montessine c'è scritto non rubare e poi c'è scritto non desiderare la roba d'altri e anche la donna d'altri e questo vuol dire che con i dieci comandamenti noi abbiamo la legittimazione divina della proprietà privata è perché se al Dio patriarcale Aton egizio poi allevato dagli ebrei con il nome di Yahweh se a questo Dio patriarcale padre eterno celeste non gli piaceva la proprietà privata dentro i comandamenti gli diceva non farti la proprietà privata capito? cioè se il Dio patriarcale egizio ma in Egitto non fece a tempo a crescere bene questo Dio patriarcale ci pensate un ebreo a farlo crescere bene se a questo Dio Yahweh non gli piaceva che l'umanità avesse la proprietà privata e dentro i dieci comandamenti faceva tanto presto Yahweh a metterci non farti la proprietà privata quindi sparivano non rubare e non desiderare la roba d'altri perché è chiaro che se non c'è la roba d'altri non c'è niente da desiderare e se non c'è la proprietà privata non puoi neanche rubare che cosa rubi se tutto è socializzato io vi ho fatto notare tante volte che in fin dei conti i nostri sterminati codice penale codice civile, codice di procedura penale, codice di procedura civile in un modo o nell'altro non fanno altro che riguardare le varie forme di proprietà di proprietà e di possesso tutto l'apparazzo della magistratura, le forze dell'ordine tutti i carceri, tutti tenuti in piedi e tutela la proprietà privata le chiavi, le serature, le porte di sicurezza comunque con tutta un'infinità di sistemi per tenere in piedi la proprietà privata allora questa ideologia ha conquistato il mondo non perché gli ebrei hanno esportato questa ideologia con le loro legioni perché gli ebrei di legioni non ne hanno mai avute, d'accordo? perché l'ideologia ebraica dei tempi antichi diciamo di Salomone, del re Salomone e poi dei successori di re Salomone di seguito è stata portata in tutto il mondo da due personaggi personaggi, da due divinità che si sono ispirate a Dio Yahweh uno è il nostro Dio, il nostro Dio Cristo che ha fondato il cristianesimo la religione cristiana baolina e il cristianesimo ha fatto la fotocopia dei dieci comandamenti e anche poi Maometto fondando la religione islamica ha fatto la fotocopia dei dieci comandamenti e se voi andate a vedere ho fatto un video intitolato le religioni del mondo e se voi andate a vedere il video le religioni del mondo dove vi do le statistiche i numeri relativi agli abitanti del pianeta appartenenti alle varie religioni vedete che gli appartenenti alle religioni del libro, della Bibbia alle tre grandi religioni monodeistico-patriarcali Yahweh, Cristo e Allah sono la grande maggioranza del pianeta e il potere è tutto concentrato in queste tre grandi religioni e tutte e tre hanno i dieci comandamenti e tutte e tre hanno non rubare e non desiderare la roba ad altri e fin qua è tutto chiaro è il patriarcato il patriarcato diciamo così si basa su quella che ho chiamato in un video l'ideologia ebraica poi ho fatto anche un video intitolato gli illuminati un video bilingue tra l'altro con le didascalie in lingua inglese per far capire a tutto il mondo chi sono gli illuminati d'accordo? e vabbè il patriarcato va avanti così va avanti con la proprietà privata e con la distinzione degli uomini tra i uomini liberi e schiavi quando Pratone e Socrate Socrate e Pratone Aristotele facevano le loro filosofie a Tateni a Sparta eccetera c'erano gli schiavi c'erano gli schiavi va bene c'era la schiavitù loro scrivevano grandi opere c'era la schiavitù c'era in antica Roma c'era la schiavitù e il fatto è che in patriarcato la forza lavoro era tutta demandata agli animali e agli schiavi in maggioranza anche gli altri uomini lavoravano ma l'arricchimento vero e proprio lo si doveva alla forza lavoro degli animali e alla forza lavoro degli schiavi e quando gli schiavi scarseggiavano gli imperi crollavano qua è inutile entrare nella storia degli imperi che ci porterebbe molto lontano anche se fare la storia l'ho già fatta la storia degli imperi documenterebbe meglio comunque la forza lavoro nel patriarcato puro nel patriarcato puro diciamo così e la forza lavoro per la produzione dei beni per la costruzione delle città si basava sulla fatica degli animali e degli uomini d'accordo? ecco poi che succede però? succede che a un certo punto con i cosiddetti progressi della scienza e della tecnica e per inciso dico che scienza e la tecnica altro non sono che una filiazione dell'ideologia patriarcale chiaro? la scienza che noi tanto esaltiamo la scienza la esaltiamo tanto perché dice oggettivo è precisa si si andate io a dire a uno che sta in ospedale che gli fanno la chemioterapia che la scienza è tanto precisa andate io a dire scusate mi sa se la ricordo a Irwana Englaro quanto è precisa e scientifica la scienza che ti tiene lì nel lettino con la cannuccia da qualche parte per 15 o 16 anni è di una precisione incredibile la scienza e la scienza fa parte del dominio patriarcale anche tanti giovani non vi seguono fanno fatica a capirlo sto discorso qua e servire e potere mica l'ho inventato io il proverbio sapere e potere no quante volte ve l'ho già detto sapere e potere e con questa equazione il patriarcato svela la propria natura sapere come potere non sapere come felicità no sapere come potere e potere è per imporre un potere per imporre d'accordo e allora con i progressi della scienza e della tecnica si scopre che ci possono essere altre forze altre forze ci possono utilizzare altre forze oltre agli uomini e agli animali per produrre per produrre le merci per costruire le abitazioni per produrre insomma per produrre i beni di consumo ci possono essere altre forze la scienza e la tecnica figlia figlia del pensiero patriarcale scienza e tecnica producono creano creano inventano inventano delle macchine e queste macchine al principio per funzionare hanno ancora bisogno della della forza umana magari degli schiavi o o o o o della forza animale però più la scienza e la tecnica procede verso quelle che sono state chiamate le magnifiche sorte progressive e si scopre che la forza degli animali e degli uomini o degli schiavi o comunque degli uomini che per mangiare hanno bisogno di lavorare può essere sostituita da certe materie prime e si comincia col carbone per esempio a un certo punto le navi per esempio smettono di andare con le vele col vento e con i rematori c'è il carbone ci sono le navi le navi a vapore le prime navi a vapore le parla tanto nei suoi bei romanzi Joseph Conrad eh le vaporieri le vaporieri il treno tra l'altro il treno poi anche le 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 grandi manifatture della fine del settecento a Londra alla fine del settecento Londra altro che altro che 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 centri industriali cinesi c'è ancora ci sono ancora degli abiti che hanno il colore mi sono fatto un fumo di Londra un bel vestito color fumo di Londra perché Londra era perennemente coperta da 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 nebbia di peco colore pesce dopo dopo col tempo è stato ripulito eh Londra sono state disinquinate anche i tanici il fumo di Londra e quindi hanno inventato delle macchine i telaie di seguito macchine che che utilizzavano assieme alla forza lavoro umana e animale piano piano utilizzavano anche altre forze la forza per esempio che al principio che veniva dal carbone e poi e poi diciamo così l'energia che proveniva dal carbone ha sostituito piano piano pressoché integralmente e la l'energia che proveniva dal mondo dagli animali e dagli esseri umani e gli esseri umani venivano solo preposti al ciclo della produzione che era però alimentato dalla forza proveniente da appunto da alcune sostanze minerali in primis il carbone ecco l'eresia capitalistica nasce in quel momento quando come in una sorta di eccesso di zelo il patriarcato scopre scopre il patriarcato e si è anche l'eccesso di zelo esiste l'eccesso di zelo c'è un proverbio che conoscete anche voi il quale dice che il meglio è nemico del bene e se il patriarcato era da questo punto di vista era il bene il patriarcato da questo punto era il bene e il capitalismo era il meglio però il meglio è nemico del bene cioè l'aver voluto aggiungere alla forza lavoro umana e animale averci voluto aggiungere e sostituirla con la forza lavoro proveniente dal carbone a principio poi il petrolio e di seguito ha sembrato liberare gli uomini da certe schiavitù però ne ha introdotto nuove di schiavitù che adesso le vediamo esplodere d'accordo adesso non ci arriviamo cari amici quindi l'eresia capitalistica è stata quella di voler fare del patriarcato una realtà pressoché miracolistica cioè il patriarcato alimentato dalla proprietà privata e da una produzione che sino allora si basava sugli animali e sull'uomini avrebbe dovuto dare che so il paradiso in terra a tutti le magnifiche sorti progressive e arriviamo quindi all'uso del carbone tutta l'Europa si riempie di manifatture che vanno avanti col carbone e in Europa pressoché tutti felici e contenti si fa per dire si fa per dire perché aumenta la produzione aumenta la produzione enorme ricordiamoci la Germania del Kaiser l'Inghilterra ai tempi del duello tra l'Inghilterra e la Russia azzarista che era il duello tra la balena e l'orso una produttività incredibile anche allora e appunto che nel 1929 la produttività negli Stati Uniti era così elevata che nessuno non la comprava più la merce perché ce n'era troppa e ci fu la famosa crisi di Wall Street non comprava più nessuno perché ormai tutti negli Stati Uniti nel 1929 avevano già comprato tutto e le automobili restavano lì invendute e tant'è vero che ci vuole la seconda guerra mondiale per riportare gli Stati Uniti allo stesso livello di ci vuole la seconda guerra mondiale se dovette arrivare al 1948 49 50 perché negli Stati Uniti si tornasse allo stesso livello di produttività del 1929 pensate un po' voi c'è voluta una seconda guerra mondiale di 5 anni per rimettere in moto la macchina produttiva statunitense che avevano prodotto troppo avevano prodotto e quindi si continua a produrre perché nel frattempo si scopre che funziona meglio del carbone il petrolio ormai siamo in piena eresia capitalistica perché si è passati dallo sfruttamento della forza lavoro animale ed umana allo sfruttamento della forza lavoro del pianeta d'accordo il pianeta non può fare le rivoluzioni non c'è i sindacati il pianeta capito mentre gli esseri umani potevano fare le rivoluzioni difendersi sparare ammazzare e poi bisognava stare attenti con gli esseri umani perché a sfruttarli troppo muoiono ho sempre fatto l'esempio che al tempo dell'antica Roma insomma del mondo antico c'erano gli schiavi ma tu lo schiavo l'avevi pagato e se tu lo paghi lo schiavo lo tratti bene avere uno schiavo è come avere un cavallo e se tu compri un cavallo spendi dei soldi e gli dai del cibo buono e cerchi di non fargli troppo male quando gli dai delle frustate capito perché se ti muore perdi il capitale e se oggi muore un operaio alla cartina di montaggio e vabbè l'operaio mica è stato comprato dal padrone è pagato se muore se ne prende un altro ma se alle cartine di montaggio della Fiat fossero gli schiavi uh con cui Marchionnes sarebbe più attento come li tratterebbe meglio li tratterebbe li scandalizza questo discorso cari amici lo so che li scandalizza cari amici perdonatemi ma io cerco di fare degli esempi per far capire è vero o no che se voi comprate un'automobile la trattate bene è vero? la trattate bene l'automobile se la comprate magari se la prendete come si dice in affitto la trattate meno bene la trattate capito? e allora col fatto che la produzione può sempre ulteriormente aumentare ai tempi della forza lavoro proveniente dalle bestie e dagli uomini non è che la produttività poteva progredire all'infinito perché per interi millenni la produttività grosso modo è sempre stata la stessa capito? da quando nasce il patriarcato sino all'avvento grosso modo del capitalismo la produttività delle società umane è sempre stata la stessa perché dagli animali e dalle bestie non è che puoi pretendere sempre di più sempre di più chiaro? è soltanto con la nascita poi vediamo quando nasce il capitalismo è soltanto con la nascita del capitalismo che la produttività diventa sempre crescente e si pretende che cresca sempre di più e il carbone rende molto di più della forza animale e della forza umana e così il petrolio il petrolio stavolta rende molto di più della forza del petrolio e della forza degli animali e degli uomini e allora mentre prima in patriarcato benché fosse patriarcato benché ci fosse la differenza la distinzione tra ricchi e poveri e via di seguito i livelli di produttività erano stabili col passare dei secoli erano grosso modo gli stessi però quando si passa grazie ai progressi della scienza e della tecnica alle forme di produttività che non sono più strettamente legate alla forza lavoro dell'uomo o degli animali e o degli animali ma sono legate prima al carbone e poi al petrolio e non si pone più limite alla produttività chiaro? perché la produttività che ci è consentita da carbone e soprattutto dal petrolio è infinitamente superiore alla produttività che ci era consentita dalla semplice forza lavoro proveniente dagli uomini e dagli animali ed ecco che si moltiplica i livelli di produttività si moltiplicano quasi all'infinito è come se davvero il patriarcato avesse creato il paradiso in terra magari prima dell'unione sovietica e secondo le modalità patriarcali legate alla proprietà privata e così giorno dopo l'altro anno dopo l'altro decennio dopo l'altro e via di seguito il patriarcato che è fondamentalmente concentrato nell'occidente europeo e negli Stati Uniti ha avuto bisogno di fare gli impegni coloniali ha avuto fare gli imperi coloniali perché era dalle colonie che provenivano le materie prime carbone e poi il petrolio ultimamente imperi coloniali o neocoloniali oggi si chiamano neocoloniali perché le forme del colonialismo cambiano in patriarcato c'erano gli imperi coloniali tradizionali in capitalismo ci sono gli imperi coloniali di tipo capitalistico si chiama il neocolonialismo va bene ecco quando nasce il capitalismo vero e proprio devo tornare a parlarvi di Max Weber Max Weber è un grande sociologo tedesco Max Weber il quale scrisse l'etica protestante è lo spirito del capitalismo lui dice che lo spirito del capitalismo Max Weber dice che lo spirito del capitalismo noi lo dobbiamo fondamentalmente fondamentalmente alla rivoluzione luterana protestante alla rivoluzione luterana per certi motivi che io ho già illustrato io vorrei integrare bellissimo il saggio di Max Weber l'etica protestante e lo spirito del capitalismo io invece vorrei integrare la bellissima osservazione di Max Weber e con queste mie osservazioni dicendo che che il capitalismo nasce quando e l'ideologia patriarcale può basarsi sulle quelle scoperte della scienza e della tecnica che consentivano di produrre le merci con delle macchine che venivano alimentate dalla da forza lavoro nuova cioè dal carbone dal carbone d'accordo? quindi Max Weber pone la nascita del capitalismo come sviluppo del patriarcado lo pone verso il 1550 io invece la nascita del capitalismo la colloco un po' più là e la colloco quando l'Europa occidentale si industrializza quando si alla fine del settecento e agli inizi dell'ottocento ecco quindi il capitalismo nasce alla fine come lo intendo io cioè il capitalismo come nuova realtà produttiva che non si basa più sulla forza lavoro umana e animale ma si basa sulla forza lavoro e del carbone in quanto sono stati inventati dei macchinari che possono utilizzare come forza lavoro il carbone quindi siamo alla fine del 1700 e all'inizio del 1800 1800 1900 ecco sono passati 211 anni grossomodo da quando è nato il capitalismo l'eresia capitalistica eresia in quanto in quanto si ritiene che la quantità delle merci prodotte possa essere aumentata a piacimento questa è un'eresia che non ha a che fare col patriarcato perché il patriarcato c'è un'eresia del patriarcato sembra che sia finalizzata a potenziare il patriarcato ma in realtà questo capitalismo è un'eresia interna al patriarcato destinata a disgregarlo dal vero il patriarcato vediamo perché vediamo perché non era mai successa una cosa di questo tipo cari amici da quando il patriarcato era nato non era mai stato messo in così grave pericolo il patriarcato come da quando è nata l'eresia capitalistica cioè l'eresia per la quale la quantità della produzione può essere illimitata così a proprio piacimento moltiplicata di anno in anno aumentata all'infinito mentre prima ci si limitava nella produzione perché la quantità della produzione era correlata proporzionata alla forza lavoro animale e umana e che non può essere aumentata all'infinito e ora invece si ha questa forma di follia visto che noi possiamo utilizzare il carbone e il petrolio e che la scienza e la tecnica ci metta a disposizione delle macchine che possono essere mosse appunto da forza lavoro di petrolio carbone e petrolio e noi produciamo quanto ci pare senza alcun limite allora in un primo momento l'occidente patriarcale industriale scientifico tecnologico sottomette tutti gli altri continenti dai quali va a portare via le materie prime che servono per questa perenne produzione una produzione cieca che non ha mai limiti e però piano 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 anche gli altri continenti imparano lo stesso sistema dell'occidente e degli Stati Uniti lo apprendono anche loro la prima guerra mondiale la seconda guerra mondiale lascono i grandi colossi come il Giappone la Cina e l'India Brasile ma il trend è in crescita perché tutti i paesi adesso imitano l'occidente del welfare l'occidente patriarcale scientifico tecnologico tutti lo imitano di cui adesso non solo non solo è l'occidente che continua a produrre sulla base del carbone e del petrolio continua a produrre in continuazione diciamo così continua a produrre con una crescita che si chiama logaritmica o esponenziale o geometrica ma ci si sono messi anche gli altri diciamo così gli altri continenti ci si è messo il colosso asiatico prima il Giappone ora la Cina e l'India qualcuno mi ha fatto notare qualche ragazzo ingenuo che Dio mi perdoni mi dice vabbè ma c'è stato questo fenomeno tanti anni fa c'è stato pure col Giappone poi tutto è stato ridimensionato ma io gli ho detto caro ragazzo ma con Giappone abbiamo che fare con una nazione di 100 milioni di abitanti che già ci ha fatto una bella concorrenza ci ha fatto mettere già un bel po' di paura lo stesso però adesso abbiamo a che fare con la Cina che ha più di un miliardo di abitanti con l'India arriviamo a circa due miliardi poi c'è l'Indocina poi c'è il Brasile il trend aumenta e adesso tutti quanti si mettono a seguire l'esempio dell'Occidente patriarcale tecnologico scientifico e tecnologico tutti c'è si mettono su questa strada e in pochi per politica ci sono le guerre queste guerre sono tutte guerre del petrolio cari amici ma per una motivazione ma per un'altra sono le guerre del petrolio perché toglietegli il petrolio voi al primo mondo che siamo noi toglietegli il petrolio siamo finiti pure questo computer qua anche questo computer è fatto di petrolio funziona come il petrolio che sarebbe l'energia elettrica se si dovesse fermare il petrolio si ferma il mondo il nostro mondo si ferma allora e adesso siamo arrivati vediamo un po' quali potrebbero essere gli sviluppi siccome non si può andare avanti in questa maniera noi siamo nella posizione in cui vediamo che non si può più andare avanti ma non siamo capaci neanche di tornare indietro allora io relativamente a questo stallo questo stallo che nasce appunto dall'eresia capitalistica è l'eresia sulla base della quale si pretende che l'umanità possa produrre quello che gli pare quando gli pare in continuazione senza alcun limite senza alcun limite ho fatto relativamente una tale strana situazione ho fatto i video intitolati la Cina è vicina occidente default ma soprattutto ho ipotizzato quello che potrebbe avvenire nei seguenti video ipotesi apocalisse sono solo ipotesi ipotesi terza guerra mondiale e poi uno più recente che quale apocalisse è perché adesso i paesi emergenti Cina India anche altri sono pieni sfondati di fondi sovrani lo sapete che ci stanno prestando e con i fondi sovrani la Cina sta comprando mezzo mondo e addirittura detta le proprie leggi sta salvando la Cina sta salvando con i prestiti i prestiti vanno poi restituiti la Grecia la Spagna Portogallo d'Irlanda presto provvederà pure a noi ha comprato la Volvo mamma mia le banche americane sono pieni di fondi sovrani cinesi allora cosa succede vedete la situazione della Fiat per esempio è il dilemma di Maurizio Landini è il dilemma di Maurizio Landini è questo perché eccolo qua eccolo qua io lo chiamo il cul de sac il cul de sac allora se noi continuiamo a produrre in questa maniera no cioè approfittiamo della forza lavoro che ci proviene dal carbone e dal petrolio va bene finché l'Occidente che lo fa ma se lo fanno tutti sto lavoro il petrolio costa sempre di più e se il petrolio costa sempre di più noi staremo sempre più poveri non solo ma a un certo punto il petrolio finisce e dici ci saranno altre forme di produzione di energia e va bene aspettiamo queste altre fonti di produzione di energia faremo recettare i nucleari per produrre sempre di più poi saremo riempiti di scoglie radioattive ecco la quale eresia capitalistica non era mai successo all'interno del mondo patriarcale cari amici una situazione tanto imbarazzante che l'umanità potesse progettare di produrre sempre di più sempre di più in forma appunto dicevo prima logaritmica o esponenziale senza alcun limite non era mai successo prima questa è l'eresia capitalistica quello che voleva progettare l'URSS il paradiso interno il paradiso dei lavoratori e l'ha progettato l'eresia capitalistica il paradiso interno attraverso una produzione incessante ed eccoci qua dove siamo arrivati che tutti i paesi hanno copiato da noi occidentali hanno preso l'esempio da noi adesso anche loro producono come noi producono producono sempre di più sempre di più sempre di più per cui c'è un conflitto delle merci perché le merci vengono dall'Oriente e costano di meno perché là sono pagati di meno molto 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 di meno e poi ci sono c'è il problema delle fonti di approvvigionamento dell'energia sia del carbone che del petrolio che del metano tra il metano e vi diseguito che ha il suo prezzo ovviamente ecco allora che fare? allora l'eresia capitalistica sta mettendo in grave pericolo il patriarcado la domanda è riuscirà il patriarcado a sopravvivere? come è sopravvissuto all'eresia nazista e all'eresia sovietica? riuscirà la saggezza profonda della proprietà privata patriarcale riuscirà a sopravvivere di fronte a questa nuova eresia? è una domanda difficile alla quale rispondere io ho detto che ove ove e la diciamo così l'insidia orientale e della produttività orientale dovesse dovesse farsi troppo onerosa per il welfare dell'Europa centro-occidentale degli Stati Uniti del Canada dell'Austria dovesse farsi troppo onerosa e dovessero avvenire diciamo delle turbulenze sociali tre piccole rivoluzioni dovute che so al calo della qualità della vita e potrebbe si potrebbe ipotizzare ipotizzare cari amici gli Stati Uniti che hanno un nazionale nucleare imponente e dicono vabbè Fort Knox e ora non è più pieno d'oro però noi abbiamo un altro Fort Knox che è pieno di testate nucleare e cerchiamo un pochettino di dare ai cinesi invece di pagarli in euro in dollari e paghiamoli in quella moneta suonante che sono le testate nucleari e voi dite la guerra nucleare e la Russia che fa la Russia la Russia si aspira la parte dei cinesi magari amici ma la Russia ormai non capite ancora che la Russia la Russia di Boris di Elsin di Gorbache adesso dell'attuale presidente Vladimir Putin la Russia non c'è più niente che spartire con l'URSS la Russia è uno stato capitalistico capitalistico pari pari agli USA e se se gli USA dovessero regolare la loro partita di vittoria con il drago cinese con delle testate nucleari la Russia sta alla finestra voi mi dite come fai tu a saperlo ma perché la Russia ha più interessi capitalistici da salvare la Russia sul piano capitalistico si trova sullo stesso livello degli Stati Uniti è finita l'epoca della divisione ideologica fra gli Stati Uniti e l'URSS non c'è più l'URSS sono vent'anni che non c'è più l'URSS oggi l'URSS è un paese a tutti gli effetti capitalistico ci sono più diciamo così conflitti sociali di vari di ricchezza nella Russia di Putin che non è i tempi degli zar e ci sarebbe un regolamento di continucleare quasi tutta l'area l'Asia quasi tutta l'Asia verrebbe sacrificata all'Occidente si farebbe tabula rasa dell'Asia e poi dopo una tabula rasa nucleare poi ci sarebbe tutta una grande opera di ricostruzione intanto per 300-400 anni però gli asiatici non potrebbero più competere con l'Occidente e l'Occidente potrebbe competere continuare a dilapidare il patrimonio terrestre a proprio piacimento sin quando sarà consentito dalla realtà ecologica allora la mia è un'ipotesi capito? è soltanto un'ipotesi ma non è facile far tornare indietro gli occidentali non è facile farli tornare indietro quando hai raggiunto un certo livello di benessere è difficile tornare indietro e il Grande Oriente ci sta facendo tornare indietro e quando si torna indietro le masse le masse le masse diciamo così insorgono e allora i governi o sparano contro le masse o sparano contro la causa la causa del malumore delle masse in questo caso il Grande Oriente che produce a prezzi inferiori cari gli esiti non li conosco una cosa è certa che mentre l'eresia sovietica abbiamo visto come è andata a finire dopo 70 anni l'URSS è crollata ed è crollato il sogno sovietico di eliminare il patriarcato va bene? come l'eresia nazista sappiamo come è andata a finire e sull'eresia capitalistica non sappiamo come è andata a finire perché è in corso certo le previsioni sono poco simpatiche perché se ci giriamo intorno vediamo che l'Europa si trova in uno stato debitorio va bene anche l'Italia la Grecia Spagna Portogallo sappiamo che Zapatero è andato al governo con tante buone intenzioni ma adesso la Spagna si trova l'ho già detto tante volte tra i paesi PIX PIX cioè PIX maiali nel senso che sporcano con i loro debiti l'eurozona nei paesi PIX P Portogallo I Irlanda G Grecia S Spagna PIX i paesi PIX qua ci abbiamo qua vicino la Sicilia qua ci abbiamo la Tunisia e l'Algeria sapete bene come fanno le cose d'accordo? insomma la situazione non è facile da gestire perché è quella qua l'eresia capitalistica la pretesa di poter produrre all'infinito con una diciamo una forza di tipo esponenziale logaritmico geometrico senza limiti senza limiti senza alcun rispetto per le risorse del pianeta ci sarà la presa di coscienza da parte dell'occidente che i consumi vanno vanno controllati e come si fa a controllare i consumi se poi diminuisce l'occupazione lo dice Maurizio Landini io lo capisco Maurizio Landini ha le sue ragioni pure lui le macchine devono essere prodotte la FIA deve produrre le macchine se la FIA non produce le macchine ci sono gli operai che restano a casa non lavorano e lo vedete il meccanismo qual è non si era mai verificato nella storia del patriarcato una situazione come quella determinata dall'eresia capitalistica perché le nostre le nostre diciamo così richieste ci hanno abituati ad avere delle richieste sempre sempre crescenti e mentre il patriarcato per secoli e millenni ha visto livelli di produttività pressoché omogenei da un decennio all'altro da un secolo all'altro pressoché omogenei e adesso improvvisamente con l'eresia capitalistica legata ai progressi della scienza e della tecnica e all'uso di nuove forze lavoro come il carbone il petrolio magari adesso anche l'energia nucleare ma la musica non cambia è sempre quello e adesso noi siamo in questa realtà è difficile prevedere come andranno a finire le cose cari amici io l'ho chiamato questo scusatemi il culo il culo del sacco del capitalismo e il patriarcato adesso dovrà il patriarcato che è il padre del capitalismo dovrà 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 tirare fuori di escogitare qualcosa per tenerlo a freno questo suo figlio ribelle che è il capitalismo vediamo come il patriarcato è stato capace di bloccare l'eresia sovietica e l'eresia nazista adesso vedremo se il patriarcato sarà capace di bloccare l'eresia capitalistica questo suo figlio di generi che vuole sperperare tutto ma che ha fatto i conti senza l'oste e l'oste sarebbe il pianeta terra pianeta terra che ha bisogno di essere un pochettino lasciato in pace e non è facile non è facile cari amici sapere come andrà a finire che potrebbe anche essere un'ipotesi nucleare quella che chiamiamo l'ipotesi di apocalisse d'accordo? dunque lo riempirebbe in una logica patriarcale l'ipotesi apocalisse di tipo nucleare perché le guerre hanno rimesse a posto tante situazioni tanto hanno distrutto ma altrettanto hanno costruito e tra parentesi vengono messe le sofferenze degli individui ma questo è un altro discorso perché l'ideologia patriarcale non è che sicuri tanto delle delle esigenze esistenziali degli individui d'accordo? non è questo lo scopo dell'ideologia patriarcale comunque oggi l'ideologia patriarcale si trova ad avere a che fare con il figlio ribelle che è il capitalismo questo 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 individuo selvaggio che non conosce regole d'accordo? che distrugge se stesso e distrugge anche il suo papà vedremo cari amici ancora non riesco a vedere chiaramente quello che potrà avvenire potarsi che fra qualche tempo mi riuscirà di capire che cosa il patriarcato inventerà per per metterlo un po' calmo questo proprio figlio ribelle che si chiama capitalismo e che caratterizza quella che io chiamo la eresia capitalistica va bene cari amici conto di ritornare sulla questione quando avrò le idee ancora più chiare d'accordo? comunque ho completato la trilogia l'eresia sovietica l'eresia nazista l'eresia capitalistica che però ancora non si è conclusa grazie se mi avete seguito e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti